un saluto ai nostri ascoltatori e coloro che sono in visione in questo momento voci da mi porta oggi a intervistare una ragazza si chiama gava alice e è titolare dell'agenzia tecnocasa di conegliano alice ciao intanto ciao ciao tutto bene grazie tutto bene senti alice è chiaro che l'argomento è abbastanza importante perché quello che ci sta toccando in questo momento è la grande pandemia che ci porta a stare a casa non lavorare a star chiusi dentro a certi spazi mantenere le distanze uscire poco la tua agenzia o comunque il tuo settore in generale penso tu possa parlare per tutto il settore dell'immobiliare come sta vivendo questo momento come lo sta affrontando ok allora noi parlo del della mia piccola piccola realtà io insieme alle mie ragazze stiamo lavorando da casa con il cosiddetto smart smart working e stiamo tenendo aggiornati i clienti giornalmente e settimanalmente per poterli comunque accudire in un certo senso perché è importante che non perdano la fiducia poi in noi e nel mercato nel nel complesso perché comunque andiamo andremo ad affrontare un periodo dopo la riapertura non semplicissimo e quindi stiamo cercando di lavorare in questo senso chiaro che è difficile perché non potendoci spostare anche per noi diventa un po complesso mi viene in mente non so fare una visita su un immobile non possiamo farla però cerchiamo di gestire da casa tutte quelle dinamiche che possiamo fare insomma attualmente poi chiaro ci spostiamo per le cose urgenti come gli atti lotarivi se se urgenti per l'appunto questo è un po un settore già in crisi come l'immobiliare per la grande così crisi del 2007 2008 e ha vissuto un periodo di crisi tremenda questo qui va a pedire peggiorare questa questa malattia va ancora a peggiorare la situazione del settore tu pensi che il calo che si è probabilmente avuto nelle vendite perché non si costruisce perché si è chiuso in casa per tutte le motivazioni che abbiamo dato prima possa essere superato semplicemente con le vostre forze o che ci siano anche per voi delle ancore di salvataggio da parte dello stato guarda allora io per come vivo la mia esperienza lavoro comunque su un franchising e un'impresa comunque che ci dà un supporto enorme a livello di tutto quello che è il lavoro quindi da casa e fuori casa quindi mi ritengo fortunato in questo senso presumo e è una mia idea che probabilmente sullo stato non potremo contare tantissimo quindi dovremmo contare tanto sulle nostre forze perché comunque grosse agevolazioni non ne sono previste per noi agenti immobiliari è chiaro che ci sarà un cambio radicale di mercato per un paio d'anni sicuramente speriamo non un tracollo dei prezzi come già avvenuto nel 2008 e in periodi in periodi addietro si fa si fa al meglio che si può si cerca di lavorare comunque con competenze con con studio e con con qualcosa in più rispetto chiaramente a a tutto quello che ci circonda insomma ecco questo questo un po un po un po la cosa non credo che dallo stato arriveranno aiuti a breve o arriveranno aiuti è un sollievo è un sollievo sentire delle giovani imprenditrici come sei tu molto giovane hai superato da pochi vent'anni e non dire di no qualche anno qualche anno dai no no veramente dei giovani che fanno impresa con la grande con grande entusiasmo come la fai tu senza pensare che siano gli altri a risolverti i problemi ma te li devi risolvere te questi sono i giovani che vogliamo nel futuro grazie sai grazie grazie a te ci mancherebbe comunque per tornare all'argomento della crisi che ci sta toccando adesso la guerra contro una un nemico invisibile che non conosciamo non sappiamo ancora da dove venga e dove vada e la considerazione che faccio quasi tutte le interviste ma è doverosa noi possiamo affrontare questo periodo che non sappiamo quanto lungo sarà solo ringraziando coloro che vivono in prima linea e che ci tutelano da questa malattia o secondo te possiamo fare qualcosa anche noi dare una mano introdurci in quei sistemi di aiuto alle altre persone a quelli che ci stanno più vicini con tutte le sicurezze del caso guarda per quanto mi riguarda credo che che sia importante che ci sia un aiuto comune da parte di tutti nel piccolo e in quello che si può fare è giusto è giusto rispettare le regole che ci sono però è anche giusto aiutare la persona che in difficoltà che non può essere aiutata diciamo da aiuti esterni come potrebbero essere i medici che sono impegnati sicuramente in altre cose quindi credo che se un vicino di casa ha bisogno di una mano con le sicurezze del caso e con le distanze e tutto quanto si possano aiutare nel piccolo chiaramente è una cosa è una cosa che migliorerebbe sicuramente tante cose tante vite e tante persone secondo me. Alice io ti ringrazio del tempo che mi hai concesso e magari faremo in modo che ci siano ancora delle opportunità per poter parlare del tuo settore e ti saluto e ti abbraccio ciao Alice grazie a voi